che lecca già già si rifiuta è giusto da qua non mi fa sbagliare ti ho detto che è qua che è il problema ma quanto ce l'hai? 27 la coppa si è 27-28 fammi riprovare ok ok dov'è? ah no cazzo dov'è? cazzo guarda lo sasso non c'è più di questo figaro cazzo ma sei fuori ho detto che tocca paura perché mi tocca giù piantala tu sei vicida ah! scemo è qua che non mi piace un tasco eh ma andiamo scendendo giù dal sasso se lo fai lì eh dietro il cazzo anche qua è stretta ma io guarda io la lancerai giù di qua ti dicono che vuoi eh ma tocca meno secondo me è più diritta qua eh se provaci non toccare fino davanti lì però ma non scivola non scivola eh sì devo andare a farlo vincere no se aspetti qua ti scivola non ti devi fermare prima l'hai fatta quasi giù se ti fermi con il davanti ti frega perché poi scivola è qua che è vedi è qua che è il casino bisogna prendere il sassetto qua eh qua è uguale però vedi avere il pelo qua figaro perché se non la alzi su e non ti appoggi ti ammazzi no di lì non mi piace non riesco neanche se la fai di qua sì ma eh dopo non chiudi più guarda uno come te sto se per me è più giusto arrivare di lì e l'allunghi giù dai non fa il sasso vediamo di qua sasso è stretta eh se lo fai qua non giri qua no no eh 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 ma questo qua che non mi piace eh eh ah eh 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 oh è micidiale non devi fermarti 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 ma ah ja non e ci arrivi ci arrivi che palle ho ah cazzo spegnerla anche in prima è colmo figaro